Nelle mie ricerche, nelle mie letture, nei miei ascolti a proposito dei radiodrammi sono incappata in una perla. Ora non so se sono incappata in questa perla perché sono appena finite le Olimpiadi e quindi la parola maratona ha attirato il mio sguardo perché si sa la maratona è la regina delle discipline olimpiche. Sta di fatto che sono incappata letteralmente in questa perla, è un radiodramma giapponese che risale agli anni 50, mi pare 56-57 e racconta il monologo interiore, anzi il dialogo interiore di questo maratoneta che sta completando la gara e un dialogo tra sé e il suo allenatore. Cosa ha di particolare? È abbastanza lungo, dura circa una quarantina di minuti ma la cosa particolare è che se si ascolta in Giappone, se ad ascoltarle una persona che capisce il giapponese si tratta semplicemente di un bel radiodramma fatto bene, molto curato nei suoni e nelle ambientazioni. Però quello che mi ha colpito e come ho anche trovato questo radiodramma è che nel 1962 una radio pubblica tedesca la Bayerische Hundfunk lo ha trasmesso in versione integrale in giapponese per il suo pubblico che non parlava il giapponese ma parlava il tedesco. Io ho la fortuna di capire il tedesco quindi sono riuscita a capire i 10 minuti di introduzione dove spiegano in tedesco di cosa si tratta le varie fasi di questo radiodramma e poi durante il radiodramma in giapponese ogni 5-10 minuti lo speaker in tedesco diceva ecco adesso c'è la scena con i genitori, ecco adesso c'è la scena dove si ricorda il suo fallimento precedente, così. Quindi queste 75 circa minuti di trasmissione con l'introduzione in tedesco e poi tutto il radiodramma in giapponese. Questo radiodramma giapponese si può seguire benissimo se si capiscono le introduzioni in tedesco. E' un esempio di un radiodramma che si può seguire con tranquillità e con grande gusto e con grande soddisfazione anche se non si parla la lingua perché è fatto in un modo pazzesco. Per quasi tutto il radiodramma c'è il ritmo che viene dato mentalmente dall'alleantore 1-2, 1-2, poi il respiro affannato che se voi avete mai corso sapete il ritmo che si forma nel respiro, le voci, il rumore della gente che fa il tifo, è veramente pazzesco ed è una perla purtroppo non posso mettervi il link perché sono riuscita a trovarlo con grandi difficoltà per poterlo studiare ma non ho l'autorizzazione a diffonderlo. Però se vi capita mai nella vita non perdetevi Marathon di Naoya Uchimura.